Ciao a tutti, sono Tommaso Mariva, sono nel centro del CUS e gioco qua da 4 anni. Il mio pregio può essere che tiro molto da 3, può essere anche un difetto perché anche se le metto spesso esagero. Un difetto è che non ho molta stamina e che non mi impegno sempre a tornare in difesa o dare del mio tutto. Ho una grande rivalità con Jack Rando, l'altro centro del CUS e ce la meniamo tutti gli allenamenti, ogni volta giochiamo contro ed è molto divertente.